Pronta? Nonna? Dimmi. Senti, nonna, ho chiamato il posto, mi ha detto che il posto mi è arrivato, stava furito la pista, parcheggiando il camion. Eh, eh, no, ce l'hai detto, insomma, che ce l'hai messo, no, ce l'ho detto, però mi ha risposto il direttore, il direttore ha detto senti, non ce la facciamo 300 euro, adesso possiamo fare un'altra cosa. Donna, visto che loro, quello, il loro negozio ce l'hanno qua, ce l'hanno tende a cappetta, no, ci possono votare per affare i soldi per la contigna, no, sto a dire che c'è solo 300 euro, giusto? Eh, eh, ho detto, ci possiamo votare, ti impegno però qualche oggetto loro per affare i soldi, ma quando ho, io ti porto i soldi, lui mi dà i soggetti indietro, ma... Ma dimmi, non ce l'ho, sono sicuramente la confiamata, dimmi, fammi. No, no, ma perché quella fede, quel bracciale che c'è sul dito, va, non ci possiamo fare quello poi quando ci sono ricostrati molto? E questo c'era la fede? Eh, no, ma ho detto, ma sai come oro, c'era la fede, il bracciale, c'era la fede, c'era solo la fede, cioè, solo la fede, eh, 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 ecco, solamente che tu la giustificava perché c'è troppa la fede, dai questi 300 euro della fede, va bene? Va bene, ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti.